Adesso vi parlo di un concetto che è il concetto di semiosfera elaborato appunto dallo studioso Yuri Mihailovic Lottman. Si tratta probabilmente del concetto semiotico lottmaniano più conosciuto nel mondo e conosciuto soprattutto appunto dagli studiosi della disciplina. È stato anche un concetto che appartiene all'era della maturità di Lottman, infatti viene diciamo raggiunto negli ultimi anni della sua produzione accademica e letteraria. La semiosfera è un saggio appunto di Lottman che è stato originariamente scritto in russo e viene pubblicato per la prima volta in Italia nel 1985. Il saggio La semiosfera, quindi il saggio che dà proprio il titolo a questo concetto, tradotto in italiano come La semiosfera, questo saggio fa parte di un libro omonimo, appunto La semiosfera, il cui sottotitolo è il seguente. La simmetria è il dialogo nelle strutture pensanti. Si tratta di un testo davvero importante che ha avuto un successo straordinario in Italia. Questo testo è stato pubblicato a cura di una ricercatrice che si chiama Simonetta Salvestroni che è ora detentrice della cattedra di storia e critica del cinema presso l'università degli studi di Cagliari. Dunque un testo davvero una icona, un testo davvero fondamentale nella storia della semiotica globale, internazionale e anche nel contesto della semiotica italiana. Ora il punto di partenza di questo saggio, come vedremo a breve, è proprio una dicotomia, una differenziazione tra due tipi di prospettive. Una prospettiva può essere chiamata la prospettiva atomistica e l'altra prospettiva possiamo definirla la prospettiva olistica. Ora il punto di partenza di questo saggio di Lottmann, La semiosfera, che per inciso è dedicato alla memoria di Roman Jacobson, quindi il punto di partenza è proprio la critica della concezione atomistica della semiotica. Adesso vi spiegherò brevemente che cosa significa la concezione atomistica della semiotica. Ora se sia la teoria semiotica di matrice americana che, come ricorderete, è risalente allo studioso che si chiama Charles Sanders Peirce e anche ad un altro studioso, sempre americano al quale abbiamo fatto cenno in pochissime lezioni, che si chiama Charles Movis. Quindi sia la teoria semiotica di matrice americana, che parte dal concetto di segno come mattone dei sistemi semiotici, e sia la teoria semiotica di matrice, diciamo francese, che invece è risalente allo studioso de Saussure e che si fonda sui concetti di Lang e Pavol, hanno qualcosa che le accomuna queste due teorie semiotiche. E perché? Perché entrambe hanno come base di partenza l'elemento più semplice, quello atomico. Ma qual è il risultato di questo approccio che possiamo denominare concezione atomistica della semiotica? Allora, il risultato di questo approccio atomistico della semiotica è che, nel caso della semiotica americana, appunto di matrice persiana o morrisiana, è che l'analisi si basa sul segno visto in modo isolato, mentre nel caso della semiotica di matrice francese tende a considerare l'atto comunicativo come fenomeno isolato, che viene condensato nello spazio comunicativo fra mittente e ricevente. In questo modo, dunque, lo scambio comunicativo fra mittente e destinatario diventa il modello di ogni atto semiotico, possiamo dire. Quali sono le conseguenze di questo tipo di approccio alla semiotica? Da questo modo di porsi derivano alcune conseguenze che sono elencate in questa slide. Innanzitutto, l'atto comunicativo dello scambio dei segni viene in qualche modo preso come modello generale del linguaggio. Bene? Secondariamente, il modello del linguaggio viene preso come modello universale che si estende anche allo studio di altri sistemi semiotici. Il terzo punto è che la semiotica, dunque, ha preso in prestito metodi linguistici e, per estensione, ha applicato questi stessi metodi anche ad oggetti che esulano dallo studio del linguaggio stesso. Quindi ha usato metodi linguistici per lo studio di oggetti di studio che non sono appartenenti al linguaggio, ok? Queste sono, diciamo, delle conseguenze dei corollari che derivano dallo studio atomistico applicato alla semiotica. Lothman, nel suo saggio dedicato alla semiosfera, spiega che questo punto di vista che possiamo far risalire a Ferdinand de Saussure è in qualche modo epitomizzato nella definizione di semiotica che viene fornita da un altro studioso, sempre afferente allo stesso gruppo della scuola di Tartu e di Mosca, che si chiama Isaac Revzin. Secondo Revzin, infatti, materia di studio della semiotica è ogni oggetto che possa essere sottoposto ad una descrizione linguistica. Bene, Lothman però avverte che vi è un rischio insito in questa impostazione scientifica che va dal particolare al generale, dunque dal semplice al complesso. Il rischio al quale si riferisce Lothman è quello di trasferire, cioè di proiettare sull'oggetto di analisi, quindi sul mondo, sulla realtà che vogliamo studiare o in qualche modo analizzare dal punto di vista semiotico, quindi di trasferire, di proiettare su questa realtà delle proprietà che sono dettate invece da motivazioni prettamente euristiche, quindi di opportunità di ricerca, di opportunità di analisi. Va bene? Dunque, all'oggetto di studio in qualche modo, in questo modo, viene attribuita una struttura che si erige a partire da elementi atomici. Dunque, in conclusione, la complessità del reale viene in questo modo ridotta alla somma di elementi semplici, dice Lothman. Dunque, questo è il punto di partenza dal quale muove lo studio di Lothman, quindi la critica al modello atomistico della semiotica. Quindi, da questo punto di partenza, Lothman nel suo saggio poi elabora una nuova teoria che in qualche modo va a rovesciare questo modello atomistico e la nuova teoria possiamo in qualche modo definirla come un modello olistico alla semiotica che discuteremo a breve. Vediamo adesso qual è l'ipotesi innovativa, quindi la svolta che viene apportata da Lothman. Dunque, dalla prospettiva atomistica alla prospettiva olistica. L'ipotesi di Lothman è la seguente. Questo è un paragrafo tratto dal saggio che è materiale di studio, appunto, la semiosfera di Lothman. Dunque, l'ipotesi è la seguente. Scrive Lothman, si può supporre che sistemi costituiti da elementi chiaramente separati l'uno dall'altro e funzionalmente univoci non esistano nelle realtà in una condizione di isolamento. La loro divisione in parti è solo una necessità euristica. Nessuna di essa, presa separatamente, è in grado, infatti, di funzionare realmente. Lo fa soltanto se immersa in un continuum semiotico pieno di informazioni di tipo diverso collocato a vari livelli di organizzazione. Chiamerò questo continuum semiosfera. Con questa proposta, dunque, Lothman capovolge completamente il punto di partenza, il punto di vista iniziale, abbandonando la prospettiva atomistica a favore, invece, di una prospettiva olistica. Da questo punto di vista, infatti, i sistemi operano in una condizione di non isolamento, in quanto il presupposto per il loro funzionamento non è quello di essere separati da tutto il resto, ma al contrario di essere proprio parte di un continuum semiotico che Lothman appunto definisce con il termine semiosfera. Lothman paga immediatamente i suoi debiti intellettuali verso coloro, quindi verso quelli studiosi che lo hanno preceduto e che lo hanno ispirato. Il concetto di semiosfera, infatti, come è esplicitamente dichiarato nell'articolo di Juvio Lothman, nasce come una analogia del concetto di biosfera che era stato coniato da Vernadsky. Vernadsky era un biologo russo che fornisce una serie di spunti molto importanti per la delineazione del concetto di semiosfera elaborato poi da Juvio Lothman. Innanzitutto, dobbiamo ricordare che Lothman si è formato in un contesto culturale molto ricco e molto stimolante. Infatti, l'importanza della cultura scientifica russa degli anni venti viene giustamente ricordata da un saggio di Vittorio Strada, che è un altro grande studioso ricordato nella semiotica italiana. Ascoltate che cosa scrive Vittorio Strada a proposito di quelli che possiamo definire i maestri di Lothman, quindi quali sono stati e quali sono state le influenze sul giovane Lothman. Scrive Vittorio Strada E' questa terza città, Leningrado, come centro culturale e scientifico che deve essere ricordata accanto alle altre due, che sono sedi della scuola semiotica sovietica, Tartu e Mosca. Non soltanto per un debito storico, che lo stesso Lothman ha più volta riconosciuto con fervida riconoscenza, ma anche per avere una adeguata prospettiva sulla scuola di Tartu e Mosca, scrive Strada. Dunque, tra i maestri di Lothman nel campo umanistico, Vittorio Strada ricorda personaggi del calibro di Gukowski, di Olga Freidenberg e di Marr, ma è altrettanto importante considerare appunto l'influenza dei grandi scienziati leningradesi degli anni venti e in particolare appunto Vernadsky. Di questo autore russo, Vernadsky, in realtà aveva anche origini ucraine, Vernadsky, di questo grande scienziato dobbiamo in questo contesto ricordare almeno due opere. La prima è appunto di Biosfera del 1926 e la seconda è Osservazioni di un naturalista, pubblicata l'anno seguente nel 1927. Allora, in questo studio del 1926, la biosfera, Vernadsky scrive che fino a quel momento, fino ad allora, si sono studiati i fatti particolari, ma non si sono studiati i rapporti e i meccanismi, e che la biosfera non è ancora stata osservata come un fenomeno unico, come un unico insieme. Per Vernadsky, la biosfera è quella zona superficiale della crosta terrestre dove si trova tutta la materia viva. Qual è la fondamentale caratteristica di questa zona, secondo Vernadsky? La fondamentale caratteristica di questa zona, che è nello stesso tempo una creazione del sole e un prodotto dei processi della terra, è, secondo Vernadsky, quella di essere un territorio di confine. Dunque, la biosfera è un territorio di confine occupato da trasformatori che traducono le radiazioni cosmiche in energia elettrica, meccanica, termica, eccetera, facendo sì che tutti gli organismi siano connessi indissolubilmente e ininterrottamente attraverso la nutrizione e la respirazione col medium naturale ed energetico che li circonda. Questa è la definizione che Vernadsky dà del concetto di biosfera. Nel secondo volume, pubblicato nel 1927, il cui titolo è Osservazioni di un naturalista, Vernadsky si occupa invece di un altro concetto importante, che è quello di tempo-spazio. Alla base di questo secondo studio del 1927, Vernadsky pone i principi di simmetria, asimmetria e anantiomorfismo. Alcuni di questi concetti vengono esplicitamente ripresi da Lottmann nel saggio sulla semiosfera ed è per questo che vengono richiamati in questo contesto. più in là avrò poi il tempo di specificare che cosa questi concetti significano. Ma quello che adesso interessa sottolineare è il seguente punto. Secondo Vernadsky, ecco, questi principi si estendono non solo alla natura, ma anche all'energia, alla chimica e ai processi atomici. Tuttavia Vernadsky si lamenta di un fatto. Secondo Vernadsky, infatti, fino a quel momento nessuno aveva estrapolato da questi principi delle conclusioni generali che fossero in qualche modo applicabili ed estendibili anche nell'ambito non prettamente scientifico. Ecco. Allora, l'innovazione apportata da Yuri Mijalovic Lottmann è proprio questa. Vale a dire, Lottmann è stato il primo studioso, il primo intellettuale, il primo pensatore che ha fatto tesoro di queste intuizioni illuminanti che erano state elaborate da Vernadsky in osservazioni di un naturalista e le ha applicate, le ha traslate in un altro ambito completamente diverso che è appunto l'ambito umanistico. Adesso dobbiamo spiegare in cosa consiste l'analogia fra il concetto di biosfera elaborato da Vernadsky e tra il concetto di semiosfera elaborato da Yuri Lottmann. Detto ciò, ritorniamo al concetto di semiosfera elaborato da Yuri Lottmann. Abbiamo detto che questo concetto nasce in analogia con il concetto di biosfera, concettualizzato invece da Vernadsky. La biosfera è disposta dunque sulla superficie del nostro pianeta e comprende tutto l'insieme della materia vivente. La funzione della biosfera consiste nella trasformazione dell'energia irradiata dal sole in energia fisica e chimica. Lottmann però precisa che il concetto di semiosfera da lui usato non deve essere confuso con un altro concetto che era utilizzato da Vernadsky, che è il concetto di noosfera. Vernadsky stesso definisce la noosfera come segue. Potete vedere la citazione in questa slide. Scrive Vernadsky, il genere umano nel suo insieme sta diventando una potente forza biologica. Sorge il problema della ricostruzione della biosfera nell'interesse di un'umanità che pensa liberamente come una totalità. Questo nuovo stato della biosfera è la noosfera. La noosfera è un nuovo fenomeno geologico sul nostro pianeta, scrive Vernadsky. Il termine noosfera, la parola noosfera, è un termine composto dalla parola greca che equivale a mente e la parola sfera usata nel senso di un involucro della terra. La noosfera però ha a che fare, ha a che vedere con l'attività razionale dell'uomo e si considera come una tappa nello sviluppo della biosfera. Quindi il concetto di noosfera non è assolutamente equivalente a ciò che Lottmann aveva in mente quando ha coniato il termine semiosfera. In diverse parti del saggio Lottmann stressa l'importanza della nozione di biosfera perché è attraverso di essa che si può determinare il concetto che Lottmann introduce, la semiosfera. La biosfera è uno spazio pieno di materia viva e la materia viva è fatta di organismi viventi. La cosa però importante da sottolineare è che la biosfera ha priorità rispetto ai singoli organismi che la compongono. Quindi la varietà interna passa in secondo piano rispetto alla funzione primaria e unitaria che la biosfera svolge e che consiste appunto nella trasformazione, nel trasformare l'energia solare in energia fisica e chimica. Come avrete notato leggendo il testo di Lottmann, quest'autore insiste molto su questo punto, infatti cita ripetutamente l'opera di Vernadsky. Vediamo adesso alcune di queste citazioni riprese da Lottmann. Scrive Vernadsky dunque, tutte queste condensazioni della vita, quindi gli organismi, sono legate fra loro in modo molto stretto. L'una non può esistere senza l'altra. Questo rapporto fra pellicole vive uguali e condensazioni e il loro carattere immutabile è fin dai tempi più remoti caratteristico del meccanismo della crosta terrestre, che si è sviluppato nel corso di tutto il tempo biologico. E ancora un altro estratto dal testo di Vernadsky. La biosfera ha una struttura perfettamente definita, che determina senza esclusioni tutto ciò che accade all'interno di essa. L'uomo, quale si osserva in natura, così come tutti gli organismi vivi e ogni essere vivo, è una funzione della biosfera nel suo spazio-tempo determinato. Ora, il punto importante è che questa stessa impostazione biologica, appunto delineata da Vernadsky, può essere usata per lo studio della semiotica. Adottando dunque l'impostazione analoga a quella di Vernadsky, Lottmann considera l'universo semiotico come un meccanismo unico, come un grande sistema. Così Lottmann introduce il concetto di semiosfera, che definisce come quello spazio semiotico al di fuori del quale non è possibile l'esistenza della semiotica. Per chiarificare ulteriormente il suo approccio, Joemi Ailovic ricorre ad un'altra analogia. Scrive Lottmann, se si mettono insieme più bistecche, non si ottiene un vitello, mentre tagliando un vitello si possono avere delle bistecche. Allo stesso modo, dice Lottmann, sommando una serie di atti semiotici particolari, non si otterrà l'universo semiotico. Al contrario, soltanto l'esistenza di questo universo, appunto, soltanto l'esistenza della semiosfera fa diventare realtà il singolo atto segnico. Quindi attraverso il ricorso ad un'altra metafora, la metafora del vitello e delle bistecche, Lottmann ci spiega ancora meglio che cosa intendeva con questo concetto della semiosfera. Adesso dobbiamo chiederci quali sono le caratteristiche essenziali della semiosfera, così come sono state delineate da Lottmann. Quindi vediamo adesso nello specifico quali sono queste caratteristiche. Innanzitutto iniziamo con il constatare che la semiosfera è assolutamente uno spazio delineato, uno spazio ben circoscritto rispetto allo spazio esterno, quindi allo spazio che lo circonda. Dunque il carattere della delimitazione o della chiusura è la prima caratteristica della semiosfera di cui bisogna in qualche modo prender nota. Lottmann inoltre precisa che il concetto della semiosfera è un concetto astratto. Quindi come potremmo però raffigurarci questo concetto astratto della semiosfera, perché pur nella sua astrattezza questo concetto presenta delle caratteristiche peculiari. Lottmann non propone nel suo saggio nessun modello diciamo visivo della semiosfera, però fornisce diciamo delle indicazioni abbastanza chiare rispetto a questa caratteristica della delimitazione o chiusura della semiosfera. Quindi abbiamo all'interno dello spazio della semiosfera quello che può essere definito appunto lo spazio semiotico. Poi al di fuori del confine, quindi al di fuori del dello spazio che circoscrive la semiosfera, si ha quello che Lottmann chiama spazio extrasemiotico. Come dicevo prima Lottmann non ci propone una raffigurazione visiva di questo concetto, però probabilmente potremmo pensare che una rappresentazione adeguata del concetto potrebbe più o meno essere quello che vedete in questa slide. Ora, accanto al carattere della delimitazione o della chiusura della semiosfera, un concetto fondamentale che va di pari passo a quello che stiamo dicendo è il concetto di confine. Così come la semiosfera è un concetto astratto, astratto sarà anche il concetto di confine, il quale non è un punto concreto ma viene definito da Lottmann come la somma dei filtri linguistici di traduzione. Che cosa significa? Significa che il confine all'interno della semiosfera gioca un ruolo importante nei processi traduttivi, nei processi di traduzione. Quindi dallo spazio, da quello che abbiamo chiamato prima spazio extrasemiotico verso lo spazio semiotico e viceversa dallo spazio semiotico all'infuori verso la periferia del sistema, quindi verso lo spazio extrasemiotico. Dunque il confine viene definito come la somma dei filtri linguistici di traduzione. Dunque passando attraverso questi filtri, i testi o il testo di una cultura viene in qualche modo tradotto, ricodificato in un'altra lingua che si trova fuori dalla semiosfera data. Quindi è importante questo concetto, è davvero cruciale per la definizione della semiosfera nei termini in cui è stata delineata da Lottmann. Passiamo adesso ad un altro concetto importante che è quello della individualità semiotica perché il concetto di confine in qualche modo ha a che vedere secondo Lottmann con questo concetto di individualità semiotica. Detto ciò Lottmann spiega che il concetto di semiosfera è legato ad altri due concetti, il concetto di omogeneità e il concetto di individualità. Alla pagina 59 Lottmann infatti ci spiega che la semiosfera è una personalità semiotica. Che cosa significa? Nonostante sia di difficile interpretazione ho trovato questa idea di Lottmann molto utile e molto interessante. Pensate al concetto di confine ed ora applicatelo all'idea di personalità. Dove inizia e dove finisce la mia personalità? Se voi ci pensate bene il confine della personalità è un concetto relativo in quanto dipende dal criterio di codificazione culturale utilizzato. L'esempio di Lottmann in proposito è illuminante. Quando Ivan IV di Russia, detto Ivan il Terribile, punisce il boiardo caduto in disgrazia, cioè il membro dell'alta aristocrazia russa e insieme a lui Ivan il Terribile punisce tutti i suoi servi, in realtà questa azione di punizione di Ivan il Terribile dimostra che i servi erano considerati in quella cultura un'estensione del capo della casa. Capite? Quindi l'esempio di Ivan il Terribile è davvero illuminante perché dimostra che in realtà non vi è confine fra i servi e il padrone. Quindi nel sistema di codificazione della Russia zarista i servi erano dunque una sorta di estensione della personalità del loro padrone. Ecco perché Lottmann parla in questa pagina della semiosfera di personalità collettiva. È anche interessante constatare, ci dice Lottmann, che la stessa logica della personalità collettiva, è in realtà alla base del concetto di vendetta familiare, in cui è la famiglia dell'assassino nella sua interezza, nella sua globalità, quindi la famiglia considerata come sistema familiare, quindi è la famiglia stessa nella sua globalità ad essere ritenuta responsabile. Dunque non è il singolo individuo, la singola personalità che conta, in quanto il singolo era fondamentalmente inconcepibile senza la stirpe di appartenenza. Si tratta senza dubbio di un concetto di una portata enorme. Lottmann non poteva sicuramente fare cenno ad un'altra questione, non poteva parlarne in quanto è una corrente di pensiero che si è sviluppata più tardi, ma se voi pensate alla tecnica delle cosiddette costellazioni sistemiche familiari elaborata dallo psicologo Bert Hellinger, ritroverete in qualche modo lo stesso concetto. Questo piccolo diagramma per esempio è preso da uno studio proprio relativo alle costellazioni familiari, infatti vedete naturalmente noi possiamo considerarci noi stessi nella nostra individualità e con i nostri confini personali. Quindi io sono io e tu sei tu e abbiamo personalità distinte. Però se si considera il posto, quindi la collocazione dell'individuo all'interno di un reticolo di relazioni familiari, appunto il sistema familiare nella sua globalità, allora è chiaro che io non sono più semplicemente io stesso con i miei confini, no? E quindi separato dagli altri, ma in realtà sono parte di un qualcosa di più grande, di più generale, di più sistematico appunto, che è rappresentato dal mio sistema familiare, dalla mia stirpe. infatti vedete da un lato vi sono io al centro, ma alle mie spalle, quindi in un remoto passato, ho i miei antenati che sono collegati a me attraverso il sistema familiare. Nella linea del futuro vi saranno poi i miei discendenti, quindi tutti coloro che verranno dopo di me e allo stesso tempo fanno parte del mio reticolo familiare, della mia semiosfera familiare, potremmo dire, anche i miei consanguinei, quindi i miei fratelli, le mie sorelle che vivono insieme a me nel qui ed ora. Dunque è il concetto di confine è un concetto diciamo molto molto relativo. Adesso dobbiamo invece occuparci di quelle che sono le funzioni, le funzioni del confine nella struttura della semiosfera. Quali sono allora le funzioni che assolve il confine all'interno della struttura della semiosfera? Dunque vediamo quali sono le funzioni del confine. Come possiamo intuire da ciò che abbiamo detto finora, il confine all'interno della struttura della semiosfera gioca senz'altro un ruolo fondamentale nella gestione di ciò che è all'esterno di una determinata semiosfera, quindi ciò che si trova fuori dai confini della semiosfera nello spazio che abbiamo definito come spazio extrasemiotico. L'Hotman specifica una delle funzioni del confine in questi termini. Scrive L'Hotman il confine è un meccanismo bilinguistico che traduce le comunicazioni esterne nel linguaggio interno della semiosfera e viceversa. Dunque è proprio attraverso questa funzione del confine che la semiosfera può in qualche modo interfacciarsi e interagire con lo spazio esterno che viene definito spazio extrasemiotico. Quindi è il modo in cui questo sistema che è circoscritto può interagire e può in qualche modo interfacciarsi verso l'esterno. Ora probabilmente qui la terminologia che viene usata da Yuri Lothman risente dell'influenza della cibernetica e della teoria dell'informazione, le quali hanno giocato un ruolo fondamentale negli anni 50 e 60 in Unione Sovietica. Infatti Lothman caratterizza il confine della semiosfera proprio come come un meccanismo bilinguistico appunto o sarebbe ancora meglio dire come un congegno. Questo congegno ha una doppia lingua e permette dunque di tradurre ciò che si trova nello spazio extrasistemico, quindi nello spazio extrasemiotico nel linguaggio stesso che è interno alla semiosfera. Naturalmente si tratta come specifica Lothman di un processo bidirezionale in quanto anche le comunicazioni, i testi e i messaggi che si trovano al di dentro della semiosfera, quindi all'interno della semiosfera, vengono poi tradotti verso l'esterno grazie al lavoro di traduzione del confine. Quindi questa è la prima funzione, la funzione di meccanismo di traduzione che possiamo attribuire al concetto di limite all'interno della struttura della semiosfera. Quindi il confine svolge appunto la funzione di traduzione. È ovvio poi però che il confine svolge naturalmente la funzione di limite, no? Perché circoscrive lo spazio. Lo abbiamo già visto prima quando abbiamo parlato del principio di limitazione o di chiusura della semiosfera. Lothman scrive a questo riguardo che la funzione del confine della semiosfera è quella infatti di limitare la penetrazione e filtrare e trasformare ciò che è esterno in interno. Accanto alla funzione di traduzione svolta dal confine e accanto alla funzione di limitazione e di filtro e di trasformazione che svolge il confine all'interno della struttura della semiosfera, Lothman suggerisce una ulteriore funzione svolta dal confine che potremmo denominare come funzione catalizzatrice. Perché funzione catalizzatrice? Beh essenzialmente perché il confine e con il confine anche la zona periferica, quindi la periferia della semiosfera, rappresenta in qualche modo la parte, la zona più dinamica in cui, come scrive Lothman, si sviluppano processi semiotici accelerati. Quindi rispetto al centro, rispetto al nucleo della semiosfera, la periferia in qualche modo rappresenta uno spazio più attivo in cui si attuano e si sviluppano processi semiotici più dinamici, più innovativi se vogliamo, che spingono in qualche modo verso il centro della semiosfera.